Eccoci con la diretta di TG Com 24, cominciano già ad arrivare in redazione diverse prime pagine dei giornali che domani troverete in edicola. Vediamo anche il titolo del mattino di Puglia e Basilicata, le signore non duellano, si parla del scontro, diciamo, TV tra Meloni Schlein, Gaza divide Mattarella dagli studenti italiani e poi Urso alla ricerca di martiri per l'ILVA.